no 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 un tiro un tiro un tiro che non arriva se ce l'hai con me? a mandare bambine ma non arriva passa per di sotto? porca puttana te lo mando da di là tu con la cine presa non te la hai da portare al mulino quando va a macchinare devi sganciargli il filo ora te lo sgancio io oi oi ho e tu Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.